Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Fishing Planet Quest'oggi impareremo a farmare i perca sul Remerald Lake E siamo in compagnia oggi di Killer Come nella scorsa volta vi farò vedere il mio inventario Allora la canna sicuramente principale di questa pescata è la Fetalite 190 05 7 grammi L'ho montata con uno shad da 5 centimetri Giallo fluo testina da 4 grammi che potrei portare pure a 7 E floro del 23 Poi abbiamo la canna da casting che non andrò ad usare E l'altra canna da spinning col 23 Testina 14 grammi warm 7 centimetri Verde fluo Dunque la licenza ce l'avevo già perché ieri sera sono andato in live Direi di andare Oh guarda cos'è un perch Gli sta andando? Sì ok va bene un perchetto Dai Ok arriviamo sul fondo e facciamo Stop and go Oh preso E' arrivato il primo Primo per cot Dove abbassare un po' la frizione perché se no qua mi rompe il filo Cosa l'hai preso? In che senso? Con il worm Bello Un chilo e 5 Già subito Già subito 292 al primo pesce Tra poco con un altro ci paghiamo la licenza Altri due Cosa? Ecco partita con la feeder Partita con la feeder Eh sì Un minchia Minchia si è partita Guarda come che tira Facciamo un po' di stopping Vengo Uh minchia che mangiata Avete visto? Oh ieri sera in live Non c'era tutta sta attività Vabbè che Che l'attività era bassa Arrivò Guarda che mi disturbi il pesce Ti tiro in testa Tiro con la testina a 20 grammi Cosa ti tiro in testa Guarda Uno due tre Via Minchia ti ho tirato davanti Allora come riferimenti Per pescare bisogna mettersi qua in angolo E mirare l'albero più alto Cioè costa tanto Tanto Eh? Non ho capito Oh preso Ho detto di vista che ho mangiato Eccolo qua Un chilo e cinque Minchia non ha tirato niente Oh sotto la barca Cosa? Tiri mi un su che ti ho sotto la barca Veni su Vieni su Oh la Cambiamo che ha un problema Passare a quella da light Ok ho anche dei po' Ok ho anche dei po' Dove ero? Figo Figo Oh preso Ce l'ho E anche con quella da light Subito Primo launch Ce l'hai sotto la barca Ce l'hai sotto la barca Non è che questo è un kayak Non è che questo è un kayak Un day Eiii Ciao Mi te Mi 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 Euri Ho bisogno Di torne A nuova canna A Fire A Fire Se ti avvicini al microfono si capisce qualcosa Non ne ho idea Ma io ho avuto uno Oh eccolo qua Ecco un altro percottino No vetti minchia Oh qua da me non mangiano più Oh eccolo Eh Sarebbe bello attaccare il mouse Appena prendi qualcosa Non chiede 5 il mio Non è buono Ma scusate il cheat Si scrive proprio così sai Cheat C-H-E-A-T Max usa le citazioni Dirmi qualsiasi cosa Sì Ok Io provo a fare un lancio per di là Non prendi Non prendi solo i luci Ho tirato un pochino troppo Uh In cover li ho tirati No no veramente in mezzo alle cammelle C'è un centimetro d'acqua tipo Uh Uh mangiata E adesso vuoi troppo Sarebbe stra bello Cioè tra tutti i laghi Il lago di Como Lago di Garda Lago qua Lago là Di Sì Fimo Ma è il culato Nel suo sul Garda Il Koginas Ho fatto un Pykes Ecco vabbè qua è per fare i Pyke Bene ragazzi per il video di oggi è tutto Come vedete è una bella NASA piena Abbiamo oltre 2000 euro 2000 soldi Di gioco Fatti Ho girato un po' di esche E anche un po' le canne Per farvi vedere un po' come I vari modi per prenderli Si può pescare di notte Di notte è una buona cosa Si prende anche di più Mi raccomando ragazzi Lasciate like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Dunque direi che Per questo video è tutto Ciao a tutti I never thought of any reason I doubt about Iscrivetevi al canale